Sconfitti ma promossi, adesso c'è il conforto dei numeri. Sveva Lucera e matematicamente in serie B. La certezza arriva dopo il KO in casa di Adria Bari, seconda in classifica della C-Gold. Rovescio sì, ma con appena 4 punti di distacco, 87-83 non sufficiente a ribaltare il computo negli scontri diretti, che all'andata aveva visto Lucera prevalere con uno scarto di 11. E allora le quattro lunghezze di vantaggio, con due turni di stagione regolare ancora da giocare, bastano e avanzano per dare il via ai festeggiamenti per la squadra di coach Ciociola, assoluta dominatrice del torneo. 18 successi ed appena due scivoloni, uno giunge proprio al palacarrassi al termine di una sfida che è una festa per tutti. Per Lucera che corona un altro salto in alto dopo quello della passata stagione, per Adria che si conferma in forma sbagliante in ottica playoff con 32 punti di Rodriguez e 24 di Callara. Corrono anche le inseguitrici però, compresa Mola che difende il terzo posto vincendo a Castellaneta per 75-67, nonostante il tentativo di rimonta ionica nel terzo periodo. 21 punti a testa per Shekic e Didi Omede, i migliori cannonieri su ambo i fronti. Vince anche Dinamo Brindisi e si conferma quarta forza del campionato a quota 28 dopo l'affermazione di misura di nuovo a palacanestro Monteroni. Un 73-72 di rincorsa che vede la squadra di Cristofaro inseguire per l'intera partita fino a ribaltarla in extremis, con 25 punti di Stonkus e 20 di Faust. A ruota c'è sempre Virtus Molfetta che regola Libertà-Saltamura per 108-72 con 60 punti complessivi tra Syracov e Brown che da solo ne fa 37 ed è il miglior realizzatore di giornata. Palzo in avanti di nuovo Matteo Ticorato che batte New Virtus Mesane per 68-62 con 23 punti di Gatta e contende a Monteroni il sesto posto. Intanto Mesane è ganciata quota 10 da Viest per l'ultimo posto disponibile per i playoff. Netta la formazione di Sunshine su New JT Trani per 105 a 67 con 6 uomini in doppia cifra. Nel prossimo turno Lucera riceverà l'abbraccio del proprio pubblico contro Dinamo Brindisi. Elettrizzante la sfida di Molfetta fra Virtus e Adria ma pure quella di Corato dove è di scena mola.